Siamo con Pierluigi Tucci di Tosco Data, una delle 17 aziende del consorzio aver partecipato a questo extra budget messo nelle settimane scorse questa iniziativa molto importante lanciata dal presidente Cioffi a cui avete partecipato penso con grande entusiasmo Sì, era impossibile non accettare la proposta di Francesco insomma scherzi a parte è stata una bella iniziativa che ci siamo sentiti appoggiare proprio perché sentivamo che c'era la necessità di fare un ulteriore sforzo e è stato bene così Senti, invece il momento del consorzio, com'è, se ci racconti un pochino dall'interno come siete anche vivendo questo momento entusiasmante della squadra? No, è sicuramente un momento positivo, c'è entusiasmo e come nelle squadre quando c'è l'entusiasmo giusto si riesce anche a ottenere a volte qualcosa in più come in questo caso che magari diversamente non sarebbe venuto quindi l'obiettivo è di unire proprio tutta questa positività cercando di ottenere un bel risultato anche alla fine della stagione grazie